Volete assistere a uno spettacolo? Non cambiate canale, perché tra due minuti io morirò davanti ai vostri occhi. Ho fatto traperare la mia posizione al vostro Signore Supremo, la Eden Innovation Technologies, una società nata da un impero in rovina che un tempo si chiamava Stati Uniti d'America. Crimine, povertà, anarchia. La Eden ha fatto sparire tutto, introducendo gli UBI, il reddito di base universale, uno stipendio idealistico in cambio dell'obbedienza. Sì, la Eden vi ha salvati, vi ha portato stabilità. Ora siete liberi. Liberi di lavorare, purché sia per la Eden, liberi di mangiare, purché sia cibo della Eden, liberi di consumare ogni s***a fornita dalla Eden, e se non siete d'accordo... Vi trasformeranno subito in qualcosa che non siete. Un mostro, un terrorista a cui sparare a vista. Niente arresto, niente processo proprio, come sta per succedere a me. Così inchinate alla Eden, ingurgitando la sua propaganda in cambio della sua elemosina quotidiana. Ma dentro di voi, sapete bene, che la via d'uscita è una sola... Se ne avete abbastanza dello spettacolo, c'è un altro modo. Unitevi a noi. Unitevi alla rivoluzione.